Abbiamo avuto il piacere e l'onore che la ditta che noi utilizziamo ha donato tramite la mia persona, la mia azienda, ha donato un termoscanner alla Presidenza del Consiglio. Quindi dopo un po' di tempo, con grande sorpresa, abbiamo avuto la chiamata e il Presidente personalmente ha voluto ringraziarci. Da Arezzo sono arrivati direttamente a Roma i termoscanner prodotti da un'azienda retina che si occupa di sicurezza ed adesso, grazie ad una donazione, sono stati installati anche a Palazzo Chigi. Questo è un traguardo prestigioso, riuscire a arrivare alla Presidenza. Chiaramente fa parte di un lavoro nel tempo che si è prolungato dagli ospedali, siamo partiti dal San Donato, poi alle scuole, poi siamo arrivati a loro. Ora ripartiamo da zero perché, come ben sapete, presenteremo il nuovo gel con il misuratore di temperatura. Per le aziende in un momento come questo è stato fondamentale reinventarsi? Sì, noi siamo stati, fra virgolette, un po' fortunati in quanto è molto vicino al nostro settore perché l'azienda madre, che ho detto prima, produce anche questi tipi di prodotti. Poi insomma, l'ho già raccontata la storia, siamo stati i primi quasi in Italia a importarli, quindi siamo avuti un buon successo.